la 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 ayo, entrate come? Il caffè è pronto. Quanto vuoi oggi tanti, caro? Quattro e mezzo giù già basta Eh, mica se siete pocchi di ucce, poi venite su quel cirolo oscio e sul diabete Mi ricordo quando era vivo Ermenigildo, anzi non me lo ricordo più, non me lo ricordo, non mi stammentate più nudoci, soffrite'si pure di amnistia, essa tremarella pure, sul morbo dei Wilkinsons… la dentiera mi è partita adesso ho andato a sua dentizia che tenia un amplesso mi ha fatto un'estesia e mi capo che uno decisivo a me la mette quella canzone che mi piace tanto però basso il volume mi che mi fanno male le orecchie vuoi venire fin se il problema dei auditel e la tromba di falloppio mi ricordo quando era vivo il meneggildo anzi non me lo ricordo più sicuro male di vostro quando abbiamo visto in uno bickinicchi le penne di uno cactus improvviso sì che è molto sicuro già vi pago bello mi lamenta il suo pino biondo tutto il broccoli neppote mio è passato a visitare l'Eva e l'ha fatto agile agile suo amico invece sicuro l'ha neccasciato perché l'ha accippato un tuffo al cuore sicuro beh io vado adesso venite a pranzo mi ho preparato trippa e ti bevo niente se i carrasci vincano oi oi non potono devo fare poca sola una caula affozza e pescina alzio ok ciao pazzi in buon orva pazzi e poi a miei amici non mi piace proprio sa trippa parete si traccia siamo un'aria in terra lo sai che i papaveri sono alti 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 e tu sei piccolina e tu sei piccolina lo sai che i papaveri